è il 2 di luglio e questo è l'almanacco naturalmente insieme all'oroscopo santa maria madonna delle grazie compleanni abbiamo l'insei lawan l'attrice statunitense nata il 2 luglio nel 1986 e poi la nostra albuna parietti alba parietti 2 luglio del 61 il proverbio ci ricorda i ricchi come vogliono i poveri come possono dall'ariete ai pesci l'oroscopo in questo 2 luglio ariete potrebbe ritornare in discussione una proposta di qualche tempo fa ciò che credevate di avere definito invece si riproporrà con toni molto più accattivanti se la cosa vi alletta fatevi consigliare dal vostro intuito che in questi giorni è particolarmente brillante e concreto toro una giornata che parte molto tranquillamente e su toni decisamente pacati non vi farà minimamente pensare a qualche repentino cambiamento invece un certo tono di voce un certo sguardo un certo profumo vi manderanno praticamente ko eppure si tratta di una persona che conoscete già gemelli oggi il vostro atteggiamento risulterà troppo alterno per passare inosservato e tantomeno per essere tollerato riuscirete a trattare chi vi sta intorno in certi momenti benissimo in altri malissimo il tutto senza mezzi termini il vostro nervosismo e la vostra ribellione si trasformeranno nel corso delle ore serali in una stupenda carica erotica niente male quindi cancro oggi non vi sentirete contenti eppure probabilmente non c'è alcun motivo per sentirvi così insoddisfatti ma è come se vi mancasse qualcosa per essere perfettamente a posto e continuerete a rimuginare su questa sensazione senza riuscire a venirne a capo la profondità di certe riflessioni vi colpirà leone sarete disponibili a quel chiarimento che vi verrà dato ma lo farete per pura cortesia in effetti non vi interessano le parole di quella persona ma farete sicuramente di tutto per non farglielo capire il vostro bisogno di sentirvi effervescenti troverà il giusto sbocco nella serata che state per organizzare dove riuscirete ad emergere vergine vitalità ed ottimismo vi regalano momenti di entusiasmo vi sentite molto aperti nei confronti di tutti e siete disponibili a chiacchierare senza mai fermarvi a valutare come con chi e di che cosa state parlando non dovete fraintendere certe parole forse non nascondono alcun sotterfugio invece di mettervi sulle difensive cercate di capirle meglio bilancia incontrerete un personaggio nuovo che desterà in voi da subito forti dubbi sulla sua sincerità è probabile che siete vittime delle vostre stesse paure e che l'ansia vi faccia immaginare cose non vere meglio una serata tutta casalinga dal sapore di cose semplici e tradizionali che un'uscita fuori casa chissà dove scorpione la giornata si presenta alquanto movimentata soprattutto se siete in attesa di qualche interrogazione o di cambiamenti nel lavoro più che sentirvi pronti a morderla la situazione avrete la sensazione di doverla subire e questo non vi piace affatto le pesanti critiche da voi mosse a una persona amica verranno riviste questa sera su toni completamente diversi sagittario oggi potrete raggiungere e definire ciò che avevate lasciato in sospeso in attesa di una maggiore chiarezza di idee e soprattutto di maggiori certezze i rapporti con gli altri saranno improntati su tanta cordialità e tanta voglia di scherzare ottima la forma fisica grande entusiasmo perciò lasciatevi andare capricorno una persona accanto a voi dimostrerà chiaramente il suo stato di paura aiutatela infondendo le più fiducia e offrendo le la vostra comprensione vedendo voi così determinati e sicuri si sentirà subito meglio e spronata a reagire darete il meglio di voi in una discussione tra amici le vostre opinioni troveranno la completa approvazione da parte di una persona che vi piace acquario oggi vi sentite piuttosto strani avete la sensazione di sentirvi improvvisamente limitati di non poter essere all'altezza di certe situazioni in realtà il limite è un preciso contorno nel quale vi siete rinchiusi per una forma di pessimismo organizzare un prossimo fine settimana insieme agli amici vi ricaricherà sicuramente di fiducia pesci non potrete molto contare sulla vostra capacità di chiarezza mentale in effetti davanti al problema tendete a drammatizzare vi sarà difficile uscirne con qualche soluzione soddisfacente controllate maggiormente la vostra sensibilità nessuno voleva offendervi o mancare di tatto nei vostri confronti facendo quella certa affermazione